La mia importazione, quindi, anche la partenza di questa posizione è un po' di percorrere i tratti intonici, i porti intonici, l'organizzatore, la prima volta l'uomo è da Paul Tardieri e i scatti, non so, la Marisa Bergson, Angelica Houston, come so, gli Audi Evo, gli scatti e gli altri sono dei tratti di Avedon, che sono dei tratti più aristocratici, nella Mare Magnelli, nella Gloria Vanderbilt, dove ci sono queste strutture più estettoniche, queste borne un po' più sulle. L'idea, appunto, lavorando intorno a queste linee, a queste silhouette, è quella di ricreare qualcosa di molto grasso e molto pulito partendo dalla silhouette di base di giorno, che è una silhouette di unica, quindi una sorta di tutto effetto figiama, ma non è un figiama, non due pezzi, l'idea di un nuovo tagliere da giorno, un nuovo doppio pezzo da giorno. Contrastato da abiti, lunghi a colonna oppure corti, dove si intravedono sempre, comunque sia, dei tagli e delle strutture, diciamo, più grafiche, delle forme più pure, mantenendo però sempre, come posso dire, dei tocchi, ovviamente più contemporanei, un po' più sexy, per cui in realtà, adesso qui non vedete tanto, lo vedrete più in passerella, perché molti giochi, molte sorprese sono dietro, quindi degli spacchi molto lunghi, dei tagli molto profondi nelle tuniche, delle scollature molto profonde nel dietro, quindi contrastano con queste forme molto pulite e con questi grandi volumi di questi volans che un po' disegnano tutta la silhouette.